Nuova area fitness che sorge qui a Montelabate in via Branca vicino al campo sportivo. Ecco, da dove è nata questa esigenza della realizzazione di questa struttura? Nasce da un'idea del vecchio assessore allo sport che era molto attento alle esigenze sportive e degli sportivi. Sono aree che già in altre realtà esistono anche qui vicino a noi, ma soprattutto principalmente in Acquero e nell'Alta Italia, vicino ai parchi. E anche noi abbiamo voluto dedicare quest'area fitness perché abbiamo visto che ci sono diversi ragazzi che praticano sport all'aperto, soprattutto poi in seguito al lockdown, al coronavirus che comunque ci ha portato a usufruire degli spazi all'aperto per poter eseguire lo sport. E quindi abbiamo voluto realizzare questa prima area, la prima area che si trova a Montelabate, in via Branca vicino al campo sportivo, la zona Alexis Gambatoio. Ne stiamo già, nei prossimi giorni, installando un'altra nella frazione di Osteria Nuova, sempre con delle attrezzature di fitness all'aperto. Per non finire, perché proprio siamo straconvinti che il futuro dello sport si svolgerà all'aperto anche inerente allo sport di gruppo, in questi giorni stanno lavorando gli operai per creare un campo da pallavolo e da basket a tre, come quello che si è visto alle Olimpiadi, che nessuno conosceva ma in realtà esiste, nella frazione di Apsella. Cerchiamo di far questo perché siamo convinti che i giovani devono avere qualcosa da fare. E piuttosto che lasciarli nel parco, magari annoiandosi, fumando le sigarette, bevendo la birra e rompendo anche le panchine, magari si dedicano allo sport e anche all'attività fisica, che forse è molto più salutare. Quindi un comune sempre più attento all'attività fisica ed è quello che comunque è importante per i giovani, come ha ribadito lei, per il futuro dei giovani soprattutto. Sì, cerchiamo di essere attenti a queste cose, infatti non riuscendo tra l'altro a gestirle noi personalmente le palestre, due o tre mesi fa abbiamo fatto il bando gestione delle palestre proprio per portare vari tipi di sport all'interno del nostro comune. Il bando è stato vinto da un'associazione che ha la gestione delle nostre tre palestre e in queste tre palestre ora si svolgono delle attività che prima magari non c'erano, come quello dell'attività sportiva, dinamica militare, una roba di questo genere, oppure della difesa personale, arrivare alla ginastica ritmica, che prima magari non erano presenti sul nostro territorio. Però ripeto, noi siamo convinti che lo sport vada fatto all'aperto, noi l'abbiamo fatto all'aperto, noi assessori e io sindaco quando eravamo giovani non ci chiudevamo mai fuori, anche d'inverno eravamo per strada a giocare col pallone, non si direbbe ma l'ho fatto anch'io. E quindi siamo straconvinti che è giusto ripristinare le aree, quelle che sono adesso attualmente non in uso, utilizzarle in questo modo.